Ma che cacchio? Kenny? Oh mio Dio, la barca! Ma porco... Io non ci posso credere! Ehm, potrebbe salvarmi la vita? Ancora non lo so eh! Ma potrebbe salvare la vita. E' stato fortunato di essere bitta sulle braccia, molto da qualcosa di importante. Ma chi lo sa? Almeno che non ha beccato l'arterie. O le vene. Ehm... Ehm... Datevi una calmata! Cioè ci hanno veramente rubato la barca. Ehm... Troviamo un piccolo paese. Ehm... Ehm... E siamo rubati della sola speranza che abbiamo avuto. Ehm... Ehm... Lei dovrebbe lasciare la tua assa a Crawford. Abbiamo abbastanza problemi. F***a te Kenny! Oh! Ehm... 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 Arrivare in silenzio. Mi e zio. Non c'ha tutti i torti, eh? Oh, porca miseria. Armi! Non ho fatto tempo a rispondere. Oh, oh. Aiutate, Omid. Oh, porca miseria. Arrivo. E... Oh, no. Qua, vai. Daie. Uno. Due. E... Tre. A posto? Oh! Mizzica. A posto, a posto. Eh... Preparateli a combattere. Sei proprio sicura? Oh, è Bri. Mizzica. Era la tizia di prima. Porca miseria. Arrivo, Kenny. Dai, dai, dai. I've caught up. Everyone get to the end of the hallway. What do we do now? This'll slow them down. We'll get to the end of the hallway. And take a fucking stand. Ooh. We can't let ourselves get trapped. Skate as many as we can. When we see an opening, we go for it. How many bullets y'all have? Three. Five. Four. Two. You all know where to aim. Get ready. Dai, eh. Oh, attenzione. Ripeto, scusate per la voce che sono molto raffreddato. Un andato. Eh, io ho finito i colpi. Sono tutti vostri. Ne ho fatti fuori cinque, credo, spero. Uh. Forza, forza, forza. Lasciala, tanto è scarica. Non fa niente. Ok. Perchè. Porca miseria. La raccolta. Grande, Ben. Perchè. 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 La raccolta. Grande, Ben. Uh. no no latches no roof access and 30 feet straight down anyone have any ideas I bet this guy would he's got a resourceful air about him Dixon Kent III Mead Krista just trying to lighten the fucking tone we need solutions not stupid jokes oh I'm sorry uh so no ideas then there's gotta be another way check the floor for any other access event anything or we wait for the house to clear out and stick to the high ground uh oh hey you're not looking great and you're warm uh hey back off please please I'm okay I'm really parents oh no Clem what did that mean she's at the hotel where her parents were staying ah not yet 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 we need to start thinking about more than just Clementine when it comes to our urgency what do you mean how do we get out of here that's the whole point we don't know okay now your life depends on it how do you get out of here I don't know I don't get it I do continue on a via d'uscita like I said everyone needs to keep looking for a way out damn it we're trapped in here do you think that worked I I don't know I hope so I think we need to have an adult conversation about what happens if Lee takes another spill oh hey look we could be looking at a Larry situation here who's Larry? don't matter he looks fine to me okay what do you want to do? just talk about it just talk about it conversation in with me getting something dropped on my head now hey guys I don't know what happened before Omid and I showed up but we can cross this bridge when we get to it Lee I'm not advocating anything here but how is this not a thing we're all so worked up about Clementine that we're forgetting what the fuck happened to you my arm is not the issue I'm not the problem the 500 walkers in the house and no door in this room are the goddamn problem yeah maybe at the moment but who's to say when it becomes an issue at that point there may not be any time left to deal with it this is getting out of hand you're gonna listen to me we will get Clementine back with or without you because I haven't given up everything to die because we were stupid then kill me you son of a bitch okay? don't even fucking hesitate I will oh oh you ruin that dude's face ahah look he's servito a litigare allora heheheh rompiamo il muro daieh what's on the other side of this wall a 30 foot drop no this mansion buts up against the one next door Comunque cerchiamo di capire se sono infetto Può essere pure che mi sono salvato la vita Cioè non lo so Prima di pensare a ammazzarmi Dai eh Mi dispiace dai Mi dispiace dai Mi too I get her Go sit down Ah Appos I'm glad you told us when you got bitten It would have been easy not to Yeah We probably would have let you go alone If you hadn't told us Which would have been a mistake If I were you I would have been scared shitless Oh no Just wham Thing was on me Never saw it Like someone in your blind spot So weird I keep doing a double take on your arm Expecting it to be there I'm hoping whatever's in their bite is gone too What do you think the odds are of that? I don't know I know everyone's wondering Even if it just slows down the process I'd be happy You don't want that So when we get this guy What do you think? Eeeh Ci prendiamo Clementine We just get Clementine That's the focus Despite how I feel I can't let vengeance be the thing Sure But if it's not that easy We'll do whatever it takes And you know Whatever happens to you Eeeh Eeeh Can we not talk like that? Eeeh The entire time we were at the hospital I could sense you think you're as good as dead I was bitten, Christa You cut it off What good is it to plan around that work? What good is it for you to give up? I haven't given up Trovate Aaaaaah Non lo so In effetti c'è un buon rapporto con Christa Se non sbaglio Cioè Clem e Christa hanno un buon rapporto Forse anche con Con Omid Eh Ben Non lo so Che ne pensi? Non possiamo lasciarlo Eh questo è vero Eeeh Eeeh No, non voglio di niente di quelle cose Che ne pensi che non si Che ne pensi che non si Che ne pensi che non si Eeeh riesco a sopportare eh boh infatti stiamo a cercare dei capi vittin so, take that for what it's worth i still can't believe you went and got chomped just fucking hell at least he told us took some brass i don't think i woulda how are you? i'm, uh i don't know how to answer that i'm sorry you've lost more than anyone well, as much as anyone E' tutto bene, figlio. Perché stai attendo come ciò che è successo? Non è successo. In ogni modo, l'ho apprezzato da voi. Molto di noi abbiamo perduto le famiglie. Potremmo prenderlo facile da lui da qui. E' un angolo come piazza. Non lui. Potremmo. Potremmo non. Hai ascoltato da lui. Certo. Non ho mai pensato in questo modo. Questo ragazzo ti racconta molto di ciò che abbiamo avuto? È in piccola. Prima di voi avevamo questa ragazza, Lily, con noi. Il Signore sa dove è ora. Noi, in ogni modo, abbiamo dovuto... fare alcuni chiamati con il mio padre. Lei è venuta tra le e io e lei molto bene. E ho passato molte ore di amare questo ragazzo. Acqua abbassata. Acqua abbassata. È tutto l'acqua sotto l'acqua. All'altro che possiamo fare è andare in giro. Perchè no, dai. Oh. Ok. Ok. Rizio. Oh, dai. No walkers. Things are looking up. No walkers. modelling in giro stamattino di palazzo qui